E' quasi pronto ormai insomma indirittura d'arrivo il restyling della giunta crocetta. Ieri il presidente ha dichiarato con molta serenità alla domanda del moderatore ma ci sono quattro ossessori certi e gli altri invece come sono sono in bilico e il presidente ha detto beh fate voi i calcoli. Lei cosa ci dice? Certo in questo momento il presidente ha un ruolo estremamente delicato in quanto ago della bilancia tra le tensioni dei diversi partiti e le forze politiche che tendono ognuno a rivendicare il proprio diritto. L'UDC come è noto rivendica il fatto di aver portato il presidente insieme al partito democratico e al megafono alle elezioni e quindi al fatto che oggi il presidente sia proprio crocetta. Quindi è sicuramente un momento molto delicato. L'UDC ha ricordato che la sua presenza in giunta deriva proprio da questo aver dato fiducia sin dall'inizio al presidente e quindi non ritiene che vi debba essere alcuna diminuzione dei suoi componenti e come sappiamo ha detto che eventualmente uscirà dalla giunta. Ora sicuramente mentre noi parliamo ci sono in corso chiamiamole delle trattative ma per definire il nuovo quadro nell'ambito del quale poi vedremo come saranno i diversi posizionamenti. E intanto lei come si sente? Si sente un po' come in acque un po' agitate? Ma guardi io dico sempre che fortunatamente io il mio lavoro ce l'ho quindi non ho l'ansia da questo punto di vista. Ecco certamente questa è una bellissima esperienza, un'esperienza molto interessante, molto difficile. Il nostro governo si sta muovendo in un momento di grave difficoltà per la Sicilia, un momento in cui sono venuti al pettine molti nodi per scelte fatte nel passato, nel passato anche remoto intendo dire, per cui una serie di conseguenze di scelte fatte adesso sono venute tutte alla sintesi determinando una situazione veramente difficile. Spero che veramente questo periodo di programmazione nuovo, il 2014-2020, si possa avviare rapidamente per rimettere nuove possibilità di lavoro per i nostri giovani perché il problema in sintesi è quello, il lavoro e quindi per questo noi abbiamo bisogno di utilizzare le risorse comunitarie, non tanto di utilizzarle tutte perché tante volte sono state utilizzate, il problema è come utilizzarle, utilizzarle bene e quindi dobbiamo cercare di andare avanti fino al momento in cui effettivamente questo flusso finanziario ci permetterà di attivare nuovi posti di lavoro concreti. Nel frattempo che i partiti decidono chi, dove e quando, il suo assessorato sta continuando a lavorare, ad esempio la legge ormai è legge sulle province, ecco, è cos'altro? C'è la riforma delle province, indubbiamente continuiamo a lavorare, c'è la riforma delle province che come sappiamo è una riforma che procede per step, per cui il disegno di legge, la legge che è stata approvata in aula sarà pubblicata sulla gazzetta ufficiale domani e quindi da lì decorreranno i sei mesi che sono previsti per il territorio per decidere come effettivamente organizzarsi. Ricordo che sono sei mesi nei quali ogni comune potrà scegliere se restare nel consorzio iniziale oppure trasferirsi a un altro vicino, crearne uno nuovo e a quel punto è lo stesso, dicasi, per i comuni che oggi sono all'interno delle città metropolitane, quindi questa sicuramente è la più grossa riforma alla quale stiamo lavorando, quella che avrà maggior impatto e per la quale bisogna procedere con ponderatezza, però un passo dopo l'altro in maniera ferma senza interrompere la marcia. A proposito di città metropolitane è passato anche in Parlamento la legge di riforma delle province che però prevede dieci città metropolitane e fra queste dieci non veniva inclusa nessuna città siciliana. Come mai questa cosa? Perché è un problema... No, noi in quanto regione a statuto speciale possiamo autonomamente legiferare, non abbiamo voluto peccare di eccedenza come qualcuno ci ha detto, ma in realtà l'individuazione delle tre città metropolitane nasce da studi fatti già dall'inizio degli anni 90, queste tre città, Palermo, Catania e Messina, sono sicuramente tre città che hanno delle caratteristiche diverse ma che comunque si ascrivono entrambi alla denominazione città metropolitana, seppur dico con caratteristiche diverse. Messina sarà una grossa sfida perché insieme a Reggio Calabria costituiranno un'entità unica in Italia, la città dello stretto o meglio l'area metropolitana dello stretto in cui sicuramente si dovranno individuare i sistemi metropolitani che tengono unite le due città già da oggi, pensiamo al numero di pendolari che fa avanti e indietro ogni giorno per motivi di lavoro o per motivi di scuola per esempio e quindi queste sono due città che sicuramente costituiranno un esempio unico in tutta Italia. Quali altre iniziative? Ho tante altre sul tappeto, ricordo che è già stata incardinata in prima commissione la legge di semplificazione che avevamo approvato nel 2013 a cui segue un pacchetto di testi unici, il testo unico sulle attività produttive, sull'edilizia e questi sono già predisposti mentre per quanto riguarda l'urbanistica e gli appalti pubblici sono in corso di redazione e poi abbiamo in itinere la riforma del sistema dei controlli degli enti locali per esempio perché in realtà molti comuni oggi si trovano in predissesto o addirittura in dissesto proprio perché obiettivamente è mancato un sistema di controlli efficace che li abbia potuti guidare e indirizzare nel corso degli anni e quindi bisogna assolutamente rivedere tutto il sistema dei controlli in modo tale da ricreare quegli organi che possano dare certezza anche dell'azione amministrativa e non lasciare solo i sindaci nelle loro decisioni e poi ancora ci sarà sicuramente una riforma della pubblica amministrazione perché non possiamo non vedere quello che succede a livello nazionale dove c'è in corso di redazione proprio una riforma della dirigenza della pubblica amministrazione che semplifica finalmente molti ruoli e quindi noi dovremmo fare assolutamente una riflessione anche in tal senso. Mi semplifica nel senso che ne riduce anche le indennità, gli stipendi, no indennità, gli stipendi. Ma guardi per quanto riguarda le indennità e gli stipendi degli dipendenti pubblici io vorrei ricordare giusto dirlo che i contratti dei regionali per quanto riguarda il comparto è fermo al 2007 mentre per quanto riguarda i dirigenti addirittura al 2005 mentre nel resto di tutta Italia sono bloccati ma al 2009 e questo è un elemento che troppo spesso non viene considerato. In realtà quando si parla di regione si fa un po' di confusione in generale tra noi e altre amministrazioni per cui obiettivamente per quanto riguarda i nostri livelli retributivi non credo che siano superiori soprattutto se paragonate ad altre amministrazioni pubbliche. Diverso il tema dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione allora lì sì che dovremmo intervenire in maniera tale da sicuramente lottare lì dove ci sono dei casi di infiltrazione o di cattiva amministrazione o di malaffare perché purtroppo ci sono anche questi. Mi pare che siete già intervenuti con una legge ad hoc. Sì ci sono una serie di provvedimenti che stiamo adottando e anche nel disegno di legge sulla semplificazione amministrativa la prima parte è proprio sul procedimento amministrativo quindi lì ci sono già degli elementi di indirizzo forte. È chiaro che su 17.000 dipendenti noi abbiamo per questione statistiche elementi di eccellenza ma anche elementi non di eccellenza chiamiamoli così. Quindi bisogna assolutamente perseguire chi adotta dei comportamenti non corretti o decisamente illegali e perseguirli con le forme giuste, con gli strumenti giusti e invece valorizzare chi lavora con onestà e correttezza. Dunque nel caso in cui non ci dovesse essere un accordo sulla sua presenza e la sua continuità nella giunta Crocetta penserebbe così come dicono i rumors ad una sua eventuale candidatura per le europee? I rumors io dico amano molto il mio volto e il mio nome per cui mi ritrovo spesso coinvolta sui giornali in discussioni che diciamo io stesso non conosco ecco per cui è difficile dire cosa succederà da qui all'europea credo che sia tutto un po' collegato cosa succederà ora al governo quali saranno gli accordi che l'Udc prenderà per le elezioni europee e certamente nei prossimi giorni ci si avrà un quadro molto più chiaro di tutto questo e quindi sapremo con certezza chi deve andare sui giornali Grazie